buongiorno a tutti mi chiamo luigi cardone e sono attualmente quindi un socio fondatore della società soft strategy e sono un consulente di strategie nell'ambito di questa azienda la mia carriera professionale in realtà nasce tantissimi anni fa nell'ambito delle telecomunicazioni in particolare sono stato sia io di team dal 2000 fino al 2009 gli sviluppi praticamente nell'ambito del radiomobile ho seguiti fin dagli anni 90 successivamente all'esperienza di team sono stato cto di team brasile per 4 anni questo mi dà lo spunto per rendere noto qualche cosa che abbastanza intuibili intuibile che l'eo t è in qualche cosa che viene da lontano noi negli anni 90 abbiamo assistito alla rivoluzione praticamente della mobilità legata fondamentalmente a un fatto personale alla persona quindi rispetto a uno strumento che veniva il telefono di casa veniva condiviso con altri elementi di famiglia il cellulare ha dato la stura a una rivoluzione industriale perché ha permesso praticamente di calare dei servizi che fossero praticamente quindi personalizzati sulle persone bene quello che è accaduto negli anni 90 e che poi si è man mano sempre di più arricchito no in termini di offerte in termini di tecnologia è stato ha avuto poi come roadmap successiva il passaggio sulle cose quindi abbastanza intuibile che una volta sistematizzata l'offerta arricchita sempre continuamente offerta per l'individuo ovviamente l'altra grande classe di soggetti no da poter in qualche maniera interessare quindi da su cui offrire dei servizi erano ovviamente le cose e quindi il la iot è qualcosa che nasce da tanto tempo quindi era solo un fatto di opportunità tecnologica di nascita di un mercato maturo tale per cui quindi la tecnologia potesse quindi diffondersi grazie alla vendita di questa tecnologia e quindi siamo arrivati diciamo ai tempi nostri da un po di anni che si discute si parla di iot da punto di vista intuitivo la iot ovviamente ha delle potenzialità infinite per qualsiasi oggetto in qualche misura può essere gestito controllato diciamo in senso generale gestito che ai fini di un servizio quindi possiamo immaginare come normalmente come spesso si dice no di controllare degli oggetti che sono in casa piuttosto che oggetti in mobilità che possono essere quindi automobili o altre cose del genere queste questa opportunità ha fatto sì che negli ultimi anni per rendere l'offerta sistematizzata e quindi ovviamente quindi usufruibile facilmente si sono sviluppate ovviamente quindi delle infrastrutture se da parte del radiomobile si usa un'infrastruttura radiomobile canonica no che è quella che segue praticamente la parte del dell'individuo anche se in realtà si prevede di ovviamente di fare delle reti specifica doc visto i milioni miliardi di oggetti da controllare sulla parte invece di applicazioni se non si sono maturate diverse piattaforme di mercato che in qualche maniera hanno il compito di gestire quindi la il servizio verso questi oggetti e quindi è chiaro che alla base del servizio quindi una piattaforma deve essere quindi praticamente oggetto di attenzione perché la maturità di questa piattaforma di questa soluzione tecnologica fa sì che il servizio quindi abbia la sua estrema affidabilità dico affidabilità piuttosto che sicurezza perché è ovvio che in funzione di questi due elementi possiamo fare dei servizi più o meno sofisticati l'affidabilità e quindi è sicurezza e quindi ripeto è essenziale per coprire quindi ampi spettri di opportunità di business che sono poi quelli anche più remunerativi la cosa più facile di questo mondo può essere sviluppata da tutti ed ha un costo ovviamente di servizio basso una cosa complessa una cosa che abbia quindi delle peculiarità tecnologiche richiede ovviamente una capacità di sviluppo particolare ma soprattutto chiede e può chiedere quindi un elemento economico giusto per poter quindi erogare questo servizio nell'ambito della società dove io opero quindi la soft strategy questo percorso dell'IoT è nato qualche anno fa e abbiamo quindi studiato nell'ambito della divisione digital quindi che ha il compito di offrire soluzioni informatiche a tutto tondo che sono quindi classiche come una piattaforma SAP piuttosto che quindi business intelligence abbiamo quindi affiancato anche questa componente quindi di IoT e da questo punto di vista quindi ci siamo dotati addirittura di una linea di business la internet delle cose andando quindi a selezionare delle soluzioni hardware e software tali da poter quindi con cui poter costruire una soluzione per i diversi clienti verso cui stiamo lavorando la piattaforma questa è la nostra ma tipicamente quindi sono le cose che dovrebbe fare qualsiasi buona piattaforma ha il compito fondamentalmente di storicizzare le informazioni che arrivano quindi dagli elementi di controllo è ovvio che in funzione del cliente gli elementi di controllo sono ovviamente diversi perché se noi andiamo su clienti come per esempio il trasporto avremo ovviamente quindi delle soluzioni di controllo che possono essere lo stato dei vagoni lo stato praticamente la pulizia dei vagoni per esempio piuttosto che il controllo praticamente se andiamo invece su altre soluzioni che possono interessare quindi flotte di veicoli quindi avremo altri contatori altri elementi da controllare quindi il primo livello è l'acquisizione di ciò che si vuole controllare in funzione tipicamente del business del cliente in funzione dell'elemento del controllo non da controllare secondo punto della piattaforma è ovviamente il monitoraggio di tutti questi dati monitoraggio dell'infrastruttura in maniera tale dopo da poter controllare da remoto in qualsiasi momento gli oggetti connessi con una determinata logica ovviamente di servizio tale per cui si va a vedere quindi quello che funziona e quello che non funziona piuttosto che nell'ambito di quello che funziona ovviamente quindi le caratteristiche del funzionamento di quel servizio che si sta in qualche maniera erogando da parte del cliente finale ovviamente quindi anche abbiamo detto quello che non funziona e quindi la tematica degli alert che vanno verso il cliente per avvisarlo di eventi anomali questa piattaforma è una come tutte altre piattaforme quindi nasce fondamentalmente quindi con lo scopo di connettere centinaia di migliaia una caratteristica speculare che è bene che praticamente quindi si abbia in funzione praticamente degli elementi da controllare abbia una insita scalabilità mi spiego una raccomandazione siamo parlando di qualche cosa che prende piede prenderà piede sempre di più e quindi qualsiasi piattaforma che si possa immaginare deve avere fondamentalmente l'affidabilità la sicurezza ma dal punto di vista di volume la scalabilità enorme perché si fa presto a passare da migliaia di elementi di controllo a milioni di elementi di controllo e quindi come tale dal punto di vista di infrastruttura soft hardware questa deve avere una affidabilità una capacità quindi estremamente elevata da punto di vista di soluzione per il mercato noi ne abbiamo sviluppate più di una ma come tutta come la buona regola di chiunque faccia un servizio quindi innovativo la prima cosa che abbiamo fatto è stato anche sviluppare delle cose per l'interno in maniera tale da essere quindi anche noi stessi utilizzatori e ovviamente quindi verificare in campo la bontà delle soluzioni detto questo quindi l'aspetto tecnologico vediamo quindi invece l'aspetto di business la fantasia oppure la opportunità diciamo la diffusione dell'utilizzo non c'è limite perché nella vita quotidiana qualsiasi cosa oggi può avere dare uno spunto perché abbia un controllo abbia quindi una soluzione praticamente risolvibile un problema risolvibile quindi con la IoT e quindi è demandato fondamentalmente quindi alla fantasia tra virgolette quindi dei del cliente allo stimolo che si può fare verso il cliente di utilizzare quindi in maniera propria una piattaforma del genere per poter controllare al meglio il proprio business